Il leopardo delle nevi usa la sua lunga coda come sciarpa per combattere il freddo e non è l'unico adattamento incredibile di quest'animale I leopardi delle nevi vivono in paesi come Russia, Kazakistan, Nepal a oltre 6.000 metri d'altezza Questo animale è un perfetto esempio di come l'insieme di adattamenti morfologici e funzionali determinano in parte il comportamento di un animale Prendiamo le sue caratteristiche respiratorie Le cavità nasali di un leopardo delle nevi sono molto più grandi rispetto a quelle di tutti gli altri felini In questo modo ha la capacità di riscaldare l'aria fredda e inalata prima che raggiunga i suoi polmoni Gli aiuta anche una pelliccia folta con colori che gli permettono di essere invisibile Le zampie quasi due volte una mano umana gli consentono di avere un buon appoggio quando si trova in cima alle rocce e di non affondare quando la neve è alta Ed ecco che arriviamo alle loro code che utilizzano per bilanciarsi e per di più la coda a una pelliccia di 12 cm Durante le notti gelide infatti il leopardo delle nevi avvolge la coda intorno al corpo come una coperta Proprio perché questo animale si è adattato meravigliosamente a determinate caratteristiche ambientali Il cambiamento climatico minaccia la sua sopravvivenza Il cambiamento climatico minaccia la sua sopravvivenza